A tutti benvenuti in nuova edizione del nostro telegiornale. Sono allarmanti i dati sul tessuto produttivo in provincia di Oristano. Nei primi mesi del 2016 il saldo tra imprese iscritte e cessazioni è di meno 105. Sentiamo Mariana Guarna. Basterebbe uno sguardo veloce alle serrande abbassate nelle vie del centro per capire che a Oristano il de profundis dei consumi è suonato da un pezzo. Se qualcuno avesse ancora dei dubbi, sono i dati sulla demografia delle imprese in provincia nei primi sei mesi dell'anno a confermare una tendenza che definire negativa è riduttivo. I dati che abbiamo da un'elaborazione del nostro ufficio studi su ovviamente informazioni camerali danno riscontri negativi praticamente in tutti i comparti. I dati più negativi riguardano attualmente l'agricoltura che ha visto la cessazione di 53 imprese a seguire quelle del commercial dettaglio che ne ha perso 45 e così via via tutte le altre categorie e comprese anche quelle del settore turistico, quindi quelle dell'hotellerie e quelle dei pubblici esercizi che invece nel passato recente ci davano soddisfazione e risultavano in crescita. Il segno meno accompagna ogni voce, agricoltura, industria, commercio, attività immobiliari e servizi di comunicazione. Il saldo finale è di 439 cessazioni a fronte di 334 iscrizioni, meno 105 attività alla faccia della ripresa. La tanto attesa ripresa non c'è ancora stata perché una crescita modesta anche dell'indice dei consumi di 0,3 o del PI dello 0,01 è ancora poco significativa per consentire a un'impresa di rimanere sul mercato, soprattutto in un mercato difficile come quello della provincia di Oristano che sostanzialmente vive di terziario di mercato e di agricoltura. A Oristano intanto, malgrado il termometro, dica tutt'altro, i commercianti ragionano già su come incoraggiare lo shopping natalizio. I commercianti si sono riuniti qualche giorno fa e hanno deciso quantomeno di provare a illuminare la città coinvolgendo tutte le attività del centro storico di Oristano. Hanno una scadenza per versare la quota di 150 euro al giorno 20, quindi ancora qualche giorno e sapremo se sarà possibile procedere in tal senso. Gli umori a sentirli però non erano dei migliori. Ci sono delle persone che ritengono questo tipo di investimento non proficuo per la loro attività, speriamo che siano in minoranza. E ieri vi abbiamo parlato dell'Associazione Cavalieri Sassartiglia e delle difficoltà a chiudere il bilancio. Oggi il Presidente Pierpaolo Falchi fa chiarezza, soprattutto in merito al ruolo dell'ex Presidente Peppe Catapano. Non ha sottratto soldi, ha dichiarato sgombrando il campo da equivoci. Abbiamo preso una decisione, un atto dovuto, nel momento in cui uno è segretario di un'associazione e nello stesso contempo è in difficoltà nel dover spiegare determinate cose, abbiamo sospeso la sua carica in quanto è opportuno dargli l'opportunità di chiarire questo aspetto. Ma da parte nostra, di tutto il Consiglio, nessuno è escluso, non c'è nessuno che ha accusato di aver rubato, giusto per non usare mezzi termini, una persona che prima di tutto va salvaguardata come dignità di persona, ha una famiglia, ha due attività. E sinceramente a me dispiace, in modo particolare, che si sia manipolato e strumentalizzato a una situazione che è normalissima nella sua vicenda. Incontrerete i vertici della Fondazione? Assolutamente sì, noi li abbiamo già incontrati. La Fondazione è cosciente che il gettone di presenza, che tra l'altro vorrei specificare, è compresa di assicurazione, di spese varie, veterinarie, di premi, cioè non è un gettone di presenza campato in aria. Quindi inevitabilmente ci sono delle uscite e a queste uscite devono corrispondere ulteriori entrate. Secondo voi quant'è il budget ideale annuo? Ma indubbiamente considerato che soltanto l'assicurazione, stiamo parlando di 37-38 mila euro, è inevitabile che comunque per tutti i premi, premiazioni, gettone di presenza, minimo deve essere un budget comunque che deve essere sopra i 100 mila euro. Per fare una sardiglia dignitosa ovviamente, di questo si sta parlando, perché se poi questo budget incominciamo a togliere assicurazioni, premi e quant'altro, i cavalieri vanno a prendere un gettone di presenza di 350 euro. Vorrei fare un conto della serva, soltanto in una sardiglia, ci sono minimo 5 ferratture, 5 per 5 sono 25, 250 euro in tasca, non ci mettiamo assolutamente nulla. Ad oggi la possibilità di uno sciopero per la prossima sardiglia è concreto? Secondo me non ci sono neanche gli estremi, perché da un primo colloquio che abbiamo fatto insieme al Vice Presidente Peppe Frao e al Consigliere Pepino Pinna con il Direttore della Fondazione, Francesco Vino, sinceramente vedo che ci sono ampi margini del recupero. Poi, se non si risolve, è ovviamente che in sede opportuno prenderemo le decisioni in accordo con tutta l'Associazione Cavalieri, perché alla fine chi decide è l'Assemblea Generale dei Socci. E via libera al bilancio della Fondazione Sartiglia, anche se con un grosso sacrificio da parte dei gremi di San Giuseppe e San Giovanni che rinunciano a 34 mila euro. Ha provato anche il nuovo statuto, a rivestire la carica di Presidente non sarà più il Sindaco di Oristano. San Giovanni e San Giuseppe stavolta proteggono la Fondazione Sartiglia. Dall'ipotesi alla realtà il passo è stato breve, i due gremi rinunciano ciascuno al finanziamento annuale di 17 mila euro e permettono all'ente di mantenere in attivo il patrimonio netto. Il bilancio di esercizio 2015, infatti, si è chiuso con una vertida di 60 mila euro. Effetto dell'aumento delle spese di organizzazione derivanti dagli obblighi legati al miglioramento della sicurezza dei percorsi e delle tribune, dell'inesigibilità di alcuni crediti derivanti da sponsorizzazioni private, ma anche per la necessità di istituire un fondo di svalutazione crediti di 26 mila euro. Necessario dunque il sacrificio dei due gremi, che quest'anno si vedranno costretti ad organizzare la giostra equestre facendo meno di somme importanti. Conti a parte, nella seduta di ieri il Consiglio Generale della Fondazione, riunito a Palazzo Campus Colonna, ha approvato il nuovo statuto. Una novità su tutte, non sarà più il Sindaco di Oristano a rivestire l'incarico di Presidente. La legge Severino stabilisce regole molto rigide sull'incompatibilità. Sarà dunque il Consiglio di Amministrazione da leggerlo al suo interno. A sua volta i cinque componenti del CDA saranno nominati dai 22 membri del Consiglio Generale su indicazione vincolante dei soci fondatori, Comune di Oristano, Gremio di San Giuseppe e Gremio di San Giovanni. Al Sindaco di Oristano viene attribuita la carica di Presidente onorario, con diritto di partecipazione e rappresentanza in occasione di eventi e iniziative pubbliche, ma senza diritto di voto né di rappresentanza legale e funzioni operative. Nei prossimi mesi i soci della Fondazione avranno il compito di nominare i nuovi organi che rimarranno in carica per cinque anni. E ora invece ci occupiamo di sanità e del reparto di neuro-riabilitazione dell'ospedale San Martino di Oristano. Non c'è alcuna preoccupazione sulla prosecuzione delle attività. Parola del commissario straordinario dell'ASL 5, Maria Giovanna Porcu. Le notizie pubblicate da alcuni organi di informazione, che smentiscono con forza, sottolinea la Porcu, equivocano in maniera strumentale la relazione del bilancio di previsione 2017, nella quale si afferma semplicemente che per l'anno prossimo saranno necessarie ulteriori assegnazioni regionali per incrementare le attività sanitarie e posti letto del reparto. Dall'assessorato regionale della Sanità, aggiunge il commissario, abbiamo peraltro ricevuto ampie rassicurazioni in ordine e finanziamenti specifici che ci saranno segnati per la neuro-riabilitazione e non abbiamo motivo di dubitare che questo avverrà. Il titolo del seminario lascia poco spazio all'immaginazione WWWine, altro non è che una faccia a faccia con i futuri maturandi del tecnico Mossa di Oristano per aprirli al mondo del lavoro. In questo caso con un'occupazione che ha a che fare col vino, la natura e la promozione di questo prodotto millenario. Sentiamo. Un esperto di marketing e comunicazione per prospettare agli studenti del quinto anno un futuro lavorativo nel settore vitivinicolo. Forse solo qualcuno degli studenti del tecnico Mossa di Oristano diventerà un enologo, un produttore del Nettare Rosso o forse nessuno. Sta di fatto che dopo il seminario odierno tutti o quasi avranno più chiari criteri di scelta da utilizzare nelle specifiche realtà imprenditoriali che siano nazionali, europee o asiatiche, esistono regole fondamentali per entrare nel mercato e promuovere un prodotto. Vendere l'isola, innanzitutto la sua immagine, la sua bellezza, la sua ricchezza di natura, puntare sull'artigianalità del lavoro della gente sarda, quindi natura, persone e prodotto che tante volte è un prodotto di qualità, di grandissima qualità, che fa un po' fatica ad essere riconosciuto e quindi lì si tratta di lavorare soprattutto su una cosa che sembra eterea come l'immagine ma che pure è quella che fa poi la differenza e quindi accettare di essere anche un pochino impacchettati meglio. Il seminario dal titolo WW Wine organizzato questa mattina all'Istituto Tecnico Mossa rientra in un specifico percorso formativo, quello dell'alternanza studio-lavoro. Vogliamo promuovere il territorio e le attività economiche che ci sono appunto qui, che sono tante, quindi rimanere qui per valorizzare quello che siamo e farlo conoscere in maniera positiva, non soltanto nel nostro piccolo ma anche uscire fuori ampliando gli orizzonti. Il Comune di Oristano ha avviato la campagna di interventi fitosanitari per gli alberi colpiti dalla cucciniglia. La campagna curata dall'assessorato all'ambiente durerà tre anni e costerà 44 mila euro. Gli esemplari di Olmi, Platani e Cercis su cui si agirà saranno in tutto 1960, spiegano il sindaco Guido Tendas e l'assessore all'ambiente fisiosana. La tecnica di trattamenti endoterapici che si sta eseguendo in questi giorni per debellare il pericoloso parassita si basa su un nuovo metodo Corradi. In questi mesi l'assessorato all'ambiente è impegnato anche nella lotta al punterolo rosso che minaccia le palme presenti in città e nelle frazioni. Nel mese di settembre si è concluso l'ultimo intervento periodico. Il prossimo è programmato per novembre e interesserà 500 esemplari di palma. E domani il rally storico farà tappa nel Sinis. Due le prove speciali in programma alle 10 e alle 14. Dettagli nelle interviste agli amministratori di Cabrasi. Allora sentiamo. Il rally storico partecipano a queste vetture che hanno gariggiato i mondiali VRC degli anni 70-80. Per la prima volta in Italia verrà proposto questo tipo di rally. Il percorso sarà più o meno come quello del VRC. La partenza sarà da Subardoi. Si passerà di fronte alla meravigliosa spiaggia di Sarutas. Arriveranno a Maimoi. Prenderanno poi la strada verso l'interno del Sinis. Saltando la strada asfaltata di Sarutas arriveranno a Canevadoso che è proprio a fronte a Montebrama. È un bel appuntamento. Sicuramente è diverso da quello degli anni scorsi. Forse avremo modo di rivedere anche le vecchie auto che poi sorcavano i rally di tutto il mondo. Quindi questo ci fa piacere. È un'opportunità anche di visibilità per il comune. Siamo beglietti anche perché cercheremo di coinvolgere le scuole. Cercheremo comunque di coinvolgere tutte le persone che sono interessate. Quindi domani ci sarà tutto il giorno questa grande opportunità. Orari, allora, la prima partenza è alle 9.56. Diciamo la strada verrà chiusa tre ore prima. Dopodiché le automobili andranno nel Monte Grichine dove gareggeranno lì. Al rientro si fermeranno in piazza Stagno dove ci saranno i bambini del scuole medie che accoglieranno i piloti. Si proporranno dei sacchetti dove all'interno ci saranno dei prodotti messi a disposizione delle aziende locali. Con questo è davvero tutto. Vi auguro un buon proseguimento e vi do appuntamento alle prossime edizioni. Arrivederci. Grazie a tutti.